Ciao a tutti ragazzi, sono Andri e il nostro Let's Play Cifa www.letpf.it, in pagina Facebook in iscrizione e sono con oggi con il quarto episodio del nostro Verso la Quinta Stelle la serie il cui obiettivo finale è quello di conquistare il mondiale online avendo la rossa completa dell'Italia però prima dovremo conquistarlo appunto senza badare a che rossa abbiamo per fare qualche credo, per avere i vacchetti e per cercare di trovare appunto i giocatori italiani facciamo un po' di turnovere in vista della terza parte del girone che dobbiamo vincere assolutamente per passare levando la gente più stanche e comunque provando anche dei nuovi giocatori tipo Benzemal o Leve potrei mettere Edin Dzeko, sì, ecco infatti poi David Silva è un 9, lasciamo stare e andiamo a giocare questa terza e fondamentale partita del girone speriamo che non ci sia un avversario troppo forte perché in quel caso sarebbero veramente i cazzi nostri allora, va bene, la squadra è pronta, avanti ecco qui il nostro avversario come potete vedere dobbiamo vincerla perché con un pareggio probabilmente sarebbero fuori 54 di intesa, ah, vabbè diciamo che la squadra è facilmente battibile speriamo che questo non sia il nuovo campione mondiale di FIFA e se non lo è diciamo che dovremmo vincere Filtrante per Silva, attenzione Silva, Silva la mette per Kovacic Kovacic! dopo 2 minuti e 50 c'è già il nostro vantaggio con il gol di Matteo Kovacic da bomber d'aria si gira Dzeko Dzeko per Danny Danny, 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 Danny solo Danny, Danny può colpire e colpisce 2-0 dopo 11 minuti partita totalmente in discesa per noi Jansen Jansen, Dzeko, Dzeko chiamalo 2, gran pala di Dzeko per Jansen Jansen la tocca il palo e poi gli arriva il 3-0 dopo 24 minuti incredibile una partita finora dominata allora il nostro avversario si è ritirato sul 7-1 all'ottantaseisimo poi ritirarsi all'ottantaseisimo è proprio la genialata del secolo dopo che l'aveva appena segnato un altro partita veramente senza storia niente da dire ho preferito non mettere i gol perché per non allungare il video erano veramente dei gol pietosi insomma andiamo ad aprire il nostro pacchetto e stiamoci buona ok negozio un giocatore un bel Messi ma anzi no dai visto che abbiamo un europeo direi Cristiano Ronaldo niente Federici un fenomeno vabbè andiamo a fare qualche aggiustamento alla formazione va allora 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 Kovacic c'è infortunato applichiamo un bel carta infortunio ok abbiamo solo quelle tutti gli infortuni ma vabbè non si sprecano mica e facciamo qualche cambio anche se è una partita molto delicata perché sono gli ottavi di finale mi affido a Varana anziché a Ogubon poi 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 David Silva lo leviamo intanto leviamo lui per Girumu mi hanno detto che ha buggato speriamo bene poi cos'altro possiamo fare cos'altro possiamo fare ah madonna si è stanco David Silva lo leviamo qua non c'è nessuno andiamo a cercare nel club ovviamente non ci metto quando ma ci metto che è Ringlia che mi sembra affidabile e per il resto siamo messi bene direi quindi andiamo a cercare il nostro avversario allora 92 in intesa 77 di valutazione vediamo vediamo Royce ATT e poi è Scar cioè non è anche come squadra comunque dai dovremmo potremmo dobbiamo battere insomma Virigna 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 il filtrante William Carvaio William Carvaio no che ti sei mangiato arriva Giru no palo che sfortuna Virigna ancora Virigna per Giru Giru 1-2 vai Virigna vai 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 primo palo primo palo primo palo vai e andiamo Virigna 36-35 su cronometro e arriva 1-0 tra il caso Virigna vamos si mette bene però no qua il filtrante per Royce Royce per destro destro l'uscita del che gol che gol è stato bravissimo anticipare subito le portiere ma vaffanculo due risultati agli GR7 va 1-1 dopo 40 minuti il risultato torna assolutamente in parità finisce così il primo tempo 1-1 con due gol nel giro dei 5 minuti ma comunque il risultato non cambia è sempre un pareggio Ago Ago per Royce Royce per K2 K2 il filtrante ro sterling no 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 che parata che parata degli arte meno male che non ho buffon questa entrava al 100% Ago ancora che palla persa no no che culo però Ago Ago le finte Ago Ago un terzino sinistra in questo modo è veramente troppo ridicolo facciamo un po' di sostituzioni mettiamo qualche forza fresca direi allora innanzitutto si David Silva per Virigna ci sta poi fuori Giroud dentro Karim The Dream cambiamo anche il modo mettiamo 4-3-1 e cerchiamo di essere un po' più offensivi Carvalho e Sesc durante la difesa mi piacciono invertiamo qua Kovacic poi direi che lo leviamo e ci mettiamo Bernard perché tanto chi entra in corso A9 intesa faccio munizione se ha esclato che avrà David Silva David Silva lascia lo spazio no ma che parata o no no non l'ha neanche parata Bernard Bernard sul fondo ho tanto su no anticipato allora arriva David Silva David Silva la mette dietro David Silva è rovesciata la parata incredibile poi cadato fuori gioco no no questa è veramente gliella però eh dai Bernard il contropiede finale Bernard Puntafani è più veloce lo salta perché ha la forza fisica di un pinguino perché ha la forza fisica di un pinguino io non ho veramente parole perché l'attacco finale uff è tutto da rifare ragazzi è tutto da rifare siamo fuori dal mondiale allora 400 dunque il video il video è finito se vi è piaciuto lascia un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video bye bye ciao